Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video Sono finalmente qui con un pack opening per i giocatori della BPL Quindi partiamo subito, ci sono anche altri giocatori fantastici Viola ma vediamo subito il primo pacchetto e c'è un Tots No ma non ci credo, è ancora quello della settimana scorsa Sono le 23, dovrebbero essere della BPL Chissà come mai c'è uscito un Tots dello scorso Team of the Season Ma comunque vediamo quanto vale sul mercato Mi sa che non lo compra nessuno Comunque è un buon pacchetto visto che possiamo scartarlo Secondo pacchetto di questo Team of the Season da 15.000 accrediti E vediamo cosa c'è dentro Saltiamo Farfan Roberto No non granché Evans Tanti contratti Vediamo se c'è qualche doppione interessante Barton, Vlar e Osvaldo Niente di che In questo pacchetto andremo a conservare tutto E proseguiremo Terzo pacchetto Vediamo se possiamo avere fortuna come nel primo Saltiamo Podolski Podolski non un buon giocatore Sfortunatamente in questi pacchetti ce ne sono davvero pochi rari Quindi andiamo con un altro pacchetto E vediamo Ah neanche uno raro Bruttissimo pacchetto questo Vediamo se c'è qualcosa di utile Un buon cacciatore Benatia E cacciatore che vale qualcosina C'è anche un Team of the Week davvero molto interessante Con due giocatori Iros, Ronaldo e Gutierrez E saltiamo No non abbiamo trovato nessuno A parte Coleman Che però ce l'avevo già comunque Ma l'ho scartato perché non mi piaceva La maglia del Liverpool E basta Nient'altro Andiamo con un altro pacchetto Come vi ho detto farò più o meno 100.000 crediti E vedremo se riusciremo a tirar fuori qualche altro Toaster, Stegen, non male Portiere del Barça Però non mi serve a niente Vediamo se c'è qualcos'altro Tanti contratti ma Una guarigione E nient'altro Quindi proseguiamo Probabilmente questi saranno gli ultimi pacchetti che aprirò Penultimo pacchetto Vediamo cosa ci riserva Ah Fireman Qualche contratto oro 2.000 crediti Che riscattiamo subito Che non sono davvero niente male E andremo ad aprire l'ultimo pacchetto Sperando in un colpo di fortuna Finale Ultimo pacchetto Speriamo Questa volta non guarderemo E salteremo E quindi Vediamo che abbiamo trovato No Crickovia Correa Speriamo qualcuno nei doppioni Simbolo della Svezia Dei rossi No Che sfortuna Detto questo Io spero che vi sia piaciuto questo mio pack opening Ciao a tutti ragazzi Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti